Dopo l'ultimo aggiornamento è possibile farmare sempre alla vestigia di Akata la cieca ovviamente come puoi vedere prima ti faccio vedere l'armamento che uso per aumentare così il vigore perché il mio moltiplicatore arriva fino a 3.20 e quindi posso fare tutto il vigore che voglio qua. Ovviamente come puoi vedere quello è l'anello con la farfalla sopra in descrizione ti ho lasciato anche il link che ti porterà sull'altro video su come trovare così questo anello e aumentare così il vigore e potete farmare tranquillamente qui però ovviamente c'è sempre quel demone che vi dà pure un po' fastidio quindi se non siete abbastanza forti da ucciderlo potete sempre ignorarlo e schivare le sue mosse. Ma se siete forti potete ucciderlo però dopo un po' ritorna. Queste sono le rune che io uso che applico così sulle mie spade come puoi vedere la runa Tumul che te la può droppare uno di questi mostri. Ti ho lasciato in descrizione anche la guida che ti porterà a trovare quest'altra runa questa qua che aumenta sempre il vigore e poi l'altra runa che ti aiuta a recuperare così la salute mentre uccidi quei cosi nel mondo umbral che è nel mondo umbrale. Quindi ovviamente questa è la vestigia di Agatha la cieca quindi non ci resta che andare sotto quindi prendere l'ascensore scendere giù e farmare. Così facendo qua piazzo il seme così se in caso dovessi morire non devo sempre prendere l'ascensore quindi metto il seme qua e spono sempre qui e ammazzo e farmo. Quindi prima di tutto mi libero un attimo di questi mostri e poi inizio così ad entrare nell'altro mondo per farmare. Come puoi vedere in alto a destra quelle sono quello è il mio vigore che ho fatto fino ad adesso in tipo 10-12 minuti farmando sempre qua ammazzando sempre quei cosi senza la faccia e quei meditori neri che si possono ammazzare subito subito. Perché sono di livello 153 però come ho detto quel demone rosso non posso ucciderlo perché è ancora troppo forte per me ed eccolo qua. Più sta in questo mondo più aumenta il moltiplicatore e più l'anello che indossi te l'aumenta sempre di più quindi a me arriva fino a 3.20. Quindi rimango qua e continuo a farmare a farmare vigore. In 10 minuti ottengo più o meno tra i 35.000 e i 40.000 di vigore. Stando sempre qua farmi e farmi ovviamente bisogna uccidere questo demone rosso però dopo un paio di minuti quello ritorna. Comunque questo demone ti può dare tra i 15-20.000 di vigore ed è veramente un grande profitto qua sopra. Comunque questo demone è un grande profitto qua. 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 Grazie. Quindi una volta farmato tutto posso anche livellare facendo tre livelli in più ed ecco qua il mio vigore, livello un po' e finisco. Grazie. 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 Grazie.